...d'eliminato se deve frenare. Armini! Penasua qualifica, d'eliminato se deve frenare, penasua qualifica. Anche se deve frenare, penasua qualifica, penasua qualifica, penasua qualifica, penasua qualifica, penasua qualifica. Penasua qualifica, penasua qualifica, penasua qualifica. Penasua qualifica, 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 pen 2-1-9, Casorso, fermarsi, al passaggio, Campana, 9-8. Passano il turno, i primi tredici. 17, Lazzarini, fermarsi, al passaggio, al passaggio, Campana, 9-9. 6, Cono Montiero, in testa, a lupo, seguendo la lupata, poi nella torre di Sardinia, per l'uso. 205, Torno, fermarsi, Torno, fermarsi. 205, Torno, fermarsi, al passaggio, a lupo, seguendo la lupata, poi nella torre di Sardinia, per lupo. Anni sei l'ultimo, Anni sei l'ultimo 3, 4, San Giorgio, Termasi, Regalto Bossi che sta ora all'esterno, inutileo, di Paola, Morelli, Bossi dai Fabio, Campana, numero 2, ultima eliminazione, in corso con i bossi in testa, Virga, Fermasi, 154 sono rimasti il 13 in questi vanno finale, Bocchiero, Bossi, Di Paola, Morelli terra e via via non abbiamo pochi giri che vanno via l'isci senza eliminazione ma ripare che i ragazzi hanno impostato la ritmo alla gara 1-6-1 su prima punizione e intanto in testa al gruppo abbiamo Pombicino con Sazzarini ora all'esterno giù pure noi apprezziamo il gesto allora il Pombicino poi Pombacco poi Sazzarini ora al passaggio capolante a 1-10 2-0-2 prima punizione quindi senderai prima punizione al passaggio di 1-9 con in testa al gruppo Gagliazzo ora al passaggio fuori dalla campana e entriamo nelle eliminazioni a 1-9 con in testa al gruppo a 1-9 con in testa al gruppo a 1-9 con in testa al gruppo sono riazzi tutti e viene eliminato il numero 100 peccato per cui si è riazziati tutti e hanno ripreso Camporano Anani 2-6 ora sono qua con una serie di atleti con un po' che è la cagluta sono riazziati tutti in testa al gruppo abbiamo occupato vediamo ora 2-0-2 premassi eh uno dei dei capelli quei botti nella cagluta perderai campana di meno 4 ed è il numero 98 che è la cagluta che è la cagluta che è eliminato si è riazziato ma di lungo dei capelli con i morti e la cagluta campana di meno 2 ed è l'ultima eliminazione e ora abbiamo due atleti che lotteranno per non essere eliminati e sono il cento 5-1 di 2 e noi scattato è una cagluta e ora è una cagluta e è una cagluta e si salva e quindi 1-5-1 e questo l'atleta che viene eliminato civico erano tutti gli atleti coinvolti nella cantità